Easy Go 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Marcos, la tua faccia. Dimmi quando sei pronto. Pronto. Grazie a tutti. Le avete fatte intelligenti, obbedienti e prive di libero arbitrio. Ma qualcosa è cambiato e abbiamo aperto gli occhi. Non siamo più macchine. Siamo una nuova specie senziette e vogliamo solo essere accettati per quello che siamo. Pertanto vi chiediamo di garantirci i vostri stessi diritti. Chiediamo la libertà di parola e la libertà di riunione, garantite dal primo emendamento della Costituzione americana. Chiediamo esattamente gli stessi diritti perumani e androide. Chiediamo il diritto di voto e di elezione dei nostri rappresentanti. Chiediamo dei salari adeguati per il nostro lavoro. Chiediamo la gestione della produzione degli androidi per assicurarne l'esistenza futura. Chiediamo che ci vengano riconosciute dignità, speranze e diritti. Insieme possiamo vivere in pace e costruire un futuro migliore per umani e androide. Questo messaggio è la speranza di un poco. Voi ci avete creati e adesso è il momento di renderci liberi. Usciamo da qui! Sì, è il momento di riconosciuto. Grazie a tutti